Non potevo mandare il video prima per un motivo, proprio perché non era ancora uscito il comunicato del Milan sulle condizioni di Chier, Simon Chier e soprattutto di Davide Calabria. Purtroppo per Davide Calabria è una lesione mio-tendinea, lo rivedremo fra tre mesi, cioè lo rivedremo dopo la sosta. Non è una sorpresa purtroppo, ma per fortuna, visto la gravità della lesione che praticamente quasi è importante, quasi simile a quella di Florenzi, quasi simile, per fortuna non ha portato all'operazione, anche se è interessato il tendine. Per fortuna il tendine ha retto, quindi non bisogna ricucirlo, però è stato un brutto infortunio. Lo dice anche Calabria, nell'altra gamba non c'entra assolutamente con il problemino che aveva avuto, il fastidio che aveva effettuato la rifinitura il giorno prima senza il minimo problema. Purtroppo tre mesi per lui, cioè lo rivedremo a gennaio. Tre mesi sembra tanto, diciamo al ritorno in campionato, perché praticamente di gioco ce n'è uno solo. Chier un po' meglio, lo rivedremo fra un problema, una lesione, ma lo rivedremo fra una decina di giorni, poi vedremo quando sarà a disposizione di, adesso avrà dieci giorni di riposo, quando sarà a disposizione di Stefano Pioli, capiremo se, ma non ipotizziamo nulla. Dieci giorni poi va valutato di giorno in giorno e capiremo quando possa ritornare in campo. Stessa cosa per Messias. Messias lo valutano di giorno in giorno, non sembra una cosa grave, così dicono a Milanello, però adesso capire se ci sarà con la Juventus o ci sarà col Chelsea il ritorno o ci sarà col Monza in questo momento non è facile dirlo. Dipende dalla evoluzione della questione rigata al suo problema fisico. Nel video di questa sera poi vi parlerò dell'allenamento di oggi per capire se ci sono indicazioni. Direi che io in questo momento ho due dubbi, non so voi. Uno dei dubbi è capire se giocherà gabbia centrale e Calulu a destra oppure destra e Calulu centrale. Dipende dagli versari, dipende dalle condizioni fisiche, dipende dai pensieri e dalle scelte ovviamente di Pioli. Per quello che riguarda la davanti, chi giocherà sulla fascia destra? Se Dest giocasse terzino, ovviamente giocherà forse Krunic. Se giocasse gabbia centrale e Calulu a destra, allora è una scelta di tra destra e Krunic. Mia idea, secondo me Pioli a Krunic non rinuncia mai e quindi sembra più probabile la presenza di Krunic. Quindi questa è la formazione. Secondo me, anche lì è una mia sensazione, prima dell'allenamento non sarei sorpreso di vedere Diaz al posto di decatelare. Diaz che aveva fatto molto bene contro il Liverpool proprio un anno fa e che può darsi che abbia la gamba per dar fastidio alla difesa impermiata su Thiago Silva e su Koulibaly, giocatori di straordinario livello, ma magari sul breve Diaz può magari metterli in difficoltà. Vedremo anche lì le decisioni di Pioli. Magari già oggi si potrà intuire qualcosa, altrimenti l'allenamento di domani. Domani Pioli parlerà alle 19 e 20, direttamente a Londra, Stamford Bridge. Io partirò mercoledì mattina e arriverò verso mezzogiorno. Rapido giro a Piccadilly perché mi dicono che in un negozio Puma, ma poi approfondirò e vi dirò le cose con più precisione per gli amici che partiranno, siamo tanti, che partono per Londra, sarà esposto in un negozio vicino a Piccadilly Circus la Coppa appena vinta, la Coppa dello Scudetto numero 19, che sarà esposta domani a Wembley intorno alle 19 l'ora, la Coppa dello Scudetto numero 19. A una parentesi vi aiuto anche come agenzia di viaggi. Per chi volesse andare a vedere il Milan a Salerno, e parliamo dei primi giorni di gennaio, ecco la partita si gioca alle 12 e mezzo, quindi bisogna partire il giorno prima perché non credo che ci si riesca arrivare, parlo di treno, poi con gli aerei non lo so, ma c'è un treno che è comodo, costa 30 euro, che parte mi sembra intorno alle 11 e arriva alle 5 del giorno prima, e poi c'è un treno che parte alle 18 dopo la partita quindi e costa circa 70 euro, insomma con 100 euro come regalo di Natale si può seguire il Milan a Salerno nella prima partita del 2023. Vi dico io appunto i costi, 30 l'andata, partenza ore 11 il giorno prima, poi c'è la spesa dell'albergo, la mangiata è a Salerno, non facciamo fatica a mangiare molto bene immagino, e poi il ritorno che ci porta col treno delle ore 18 intorno a mezzanotte, ritorno a Milano, speriamo con tre punti, ma lì stiamo già parlando di gennaio, vi ho solo detto che chi volesse fosse interessato può scegliere questa, io non faccio parte né di Italo né delle ferrovie italiane e quindi di Trenitalia, lo dico solo per voi. A proposito dico sempre a voi di scaricare dal link in descrizione il numero 10, l'applicazione gratuita che parla di calcio italiano e internazionale e ovviamente esalta i tre gol di Haaland che mi sembra che sia la terza tripletta consecutiva dei numeri incredibili, ma io guardo in casa. Ieri ho cominciato una mia personale battaglia per un leao e uno di voi mi ha dato un meraviglioso suggerimento che deve davanti al suo ritratto, sopra al suo ritratto deve esserci scritto not for sale, non in vendita. Ed è una cosa che adesso batterò molto sul fatto che leao non debba essere ceduto. Ne ho già parlato nel video di questa mattina e tutti erano d'accordo con me, io mi ero un po' adagiato sul fatto che se arrivano 120 non mi interessano. Ecco però non ho toccato un punto che mi interessa toccare, mi interessa anche la vostra opinione. Si dice, eh beh, se però diamo 7-8 milioni alleao, si scuote lo spogliatoio, turbulenze dello spogliatoio. Beh, turbulenze dello spogliatoio non so, Maldini è molto attento e Massara sono molto attenti all'ambiente dello spogliatoio, sia per quello che riguarda gli ingaggi, sia per quello che riguarda gli acquisti. Quando temono che un giocatore non abbia le caratteristiche per entrare in armonia, piuttosto non lo comprano anche se è un campione. Quindi in questo senso capisco la situazione di Maldini. Ma il Milan anche nel passato ha fatto l'eccezione per grandissimi campioni, per grandissimi campioni. Io penso che i giocatori del Milan siano giocatori intelligenti, siano giocatori che capiscono quando un giocatore, quando un compagno sia più competitivo e gli aiuti a diventare, di entrare nella leggenda. Io non credo che debba, debba protestare con la società, andando contro la società, se io con dei campioni che prendono più soldi di me, io poi metto la foto con la Coppa dei Campioni nella storia del Museo Milan. Faccio un esempio, anche se entro in in casa Inter, quando hanno dato, mi sembra, 6 milioni a Cialanoglu, poi mi sembra che abbiano aumentato anche lo stipendio di Barella. Io, ripeto, non sono molto addentro alle cose dell'Inter, ma Barella è stato portato a 3, 3 e mezzo, credo. E penso che Barella sia contento di giocare con un compagno che prende più soldi. Non ha protestato e ha preso del denaro. E questo è un modo intelligente di fare gruppo. Non bisogna, diciamo, non bisogna creare sconquassi nello spogliatoio perché un tuo compagno bravissimo, per un tuo compagno unico, per un tuo compagno fuori classe, prende più soldi. D'altra parte sale anche il tuo ingaggio se il Milan continua a vincere. Magari non raggiungerai i 7-8 milioni di Leao, però puoi salire. Quindi anche questo aspetto dello spogliatoio che possa protestare, possa non gradire, mi sembra una questione facilmente superabile. Penso che tutti siano... Allora, con lo stipendio più basso perdi il tuo compagno che ti possa far vincere? Bah, io non penso. E poi se c'è qualcuno che non gradisce e se ne voglia andare ed è uno dei giocatori campioni sostituibili, fa parte del gruppo sostituibili, allora li sostituiremo con qualcun altro. Ma non credo, il gruppo è così armonico, così affiatato, che non voglio pensare che questo possa essere un ostacolo a un aumento di ingaggio e soprattutto un ostacolo alla permanenza di Raffaele. Non lo voglio pensare. Io continuerò questa mia crociata, voglio esagerare, per tenere questo grande giocatore. Vi ho già spiegato nel video, andate a vederlo questa mattina, vi ho già spiegato per quali motivi il nostro Sunflower, il nostro girasoli di Van Gogh nella pinacoteca di Milanello, nella pinacoteca di casa Milan, Leao non debba essere ceduto. E poi oggi giorno particolare, attenzione, buon compleanno Zlatan Ibrahimovic, buon compleanno Ibra Suprema, si torna, Ibra Suprema si torna, si sta lavorando bene, torna a figurarsi se lui vuole chiudere la sua carriera da giocatore infortunato. Lui ha finito la sua carriera segnando un gol meraviglioso a Reggio Emilia, che solo per pochi centimetri non è stato convalidato perché era in fuorigioco, ma con una gamba è riuscito a salire là e colpire la palla di testa. Sarebbe stato il dio del calcio, ci avrebbe regalato una gioia immensa perché proprio lui avrebbe chiuso questo cerchio, ma il cerchio non si chiude ancora. Zlatan Ibrahimovic e tanti auguri Ibra, continua e continuerà, tornerà con Calabria a gennaio, tornerà con Seleme Kers a gennaio e tornerà anche Zlatan Ibrahimovic. Quindi il giocatore che ha fatto il Big Bang, d'accordo Pioli, d'accordo la società, d'accordo il Fordoelio, ma il Big Bang, la scintilla è stata quella di Zlatan Ibrahimovic, che se non erro, se ho visto bene, deve essersi regalato una macchina da niente come fa lui. Mi sembra di aver visto su Instagram una meravigliosa Ferrari bicolore, inconfondibile, quando la vediamo per strada ce l'ha solo lui, se ho letto e ho visto bene. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di tu di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e soprattutto sesto podcast della storia del Milan. Andate a sentirlo su Spotify.